Il capitan della compagnia che le ferito sta per morir e manda via ai suoi alpini e che lo vengano a ritrovare i suoi alpini che manda dire che non ha scarpe per camminare o con le scarpe o senza scarpe i miei alpini li voglio fare cosa comanda il capitan che noi adesso siamo arrivati e io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia da via il primo pezzo alla mia patria il secondo pezzo al battaglio il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del jubilor il quarto pezzo alla mia fetta che si ricordi del suo primo amor l'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior l'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior l'ultimo pezzo alla mia